Ma qual è un buon programma televisivo in questo momento in Italia? Cioè se da Brighton un giorno piglio un colpo in testa, oppure faccio un salto nel mare ghiacciato, esco e dico, d'ora in poi mi guardo un programma televisivo, c'è un programma che dici, questo è proprio bello? Ma sai, la tv in questi anni, secondo me, si è rovinata da sola, ha dato spazio solo ed esclusivo. Allora, che cosa funziona a loro interessa? Cosa funziona? Litigi, litigi, litigi. Quindi vuol dire far reality dove la gente si detesta, non li fai mangiare, li chiudi, diventano bestie. Ora qua ridono tutti, leviamoli la cena e il pranzo di domani. Per un mese e mezzo. E alla battuta di Mughini ti tirano la sedia nell'occhio. Dopodiché sono arrivate le piattaforme e hanno destabilizzato il mercato, completamente, da Netflix a Prime Video. Prime Video, a differenza di Netflix, fa anche dei programmi, che è una scelta secondo me molto intelligente, perché Netflix si limita alle serie, ha qualche stand-up comedian. Invece loro hanno fatto proprio dei programmi, ne hanno fatto uno con Cracco, i suoi ospiti, che secondo me era molto bello, dove andavo in giro a cucinare, ma una cosa veramente, poi tutto garbato. Quindi ha rivoluzionato anche il linguaggio, cioè loro hanno dato la possibilità intanto di esprimerti, ma con educazione. Cioè non vai su Prime Video e fai quella roba là. Ed è giusto che sia così. Cioè hanno rimesso, il problema è che uno deve lavorare su Prime Video. Certo. Dopodiché hanno fatto programmi come LOL, non so se tu li hai visti, perché l'hanno fatto in tutto il mondo, quindi magari in Inghilterra li hai visti. Qualcosa. Ok, beh, erano comici che non dovevano ridere. Ecco. Qua c'era Fedez, c'era nella... Sì, c'era Fedez con Mara Maionchi, nella prima First Season. Ok, First Season, ma Fedez non è un comico. No, ma serviva un non comico per presentare, perché poi diventa, si è a disagio, no? Cioè perché al di sopra delle... Anche se secondo me sono tante pippe che le persone si fanno, a me onestamente, se fosse stato un comico che presentava, io ero lì. Ok. Ho altre priorità. Nel senso, la mia vita è altro che non dire, perché lui sì e io no? Mi alzavo, pezzo di... Come Muchini. Quindi no, diciamo che ecco, l'arrivo di Prime Video, l'avvento di Prime Video ha dato la possibilità di fare delle cose carine. Come facevano all'inizio magari, no? Ma come magari ancora sulla RAI ci sono, il problema di... Che su Mediaset è tutto un litigio. E poi abitui il pubblico a questo e se fai una cosa carina non la guarda più nessuno. Certo. E' come se tu sei... Ci sono tre comici di una serie sul palco. Quello che dice le parolacce deve andare per ultimo. Perché si inizia lui con... Ma che cacchio... Loro ridono. Quello dopo che fa... E che cacchio? Ah. T'ammazza, eh? E quindi è tutta una questione... Beh, è un lavoro, eh? Cioè, nel senso, c'è tutto... E' sempre la comunicazione alla base, secondo me. Ecco, quindi... Continuo a guardarti i canali. Mi guardo. Sai una cosa che mi piace molto ultimamente è Apple TV. Sì, ok. Io lo dico sempre. Come serie. Ho visto Ted Lasso, che è una serie meravigliosa, gentile. Cioè, dove hai un messaggio che dici... Ma ti voglio bene, Ted Lasso. Qualcuno ha visto Ted Lasso? Nessuno, bene. Ok, parliamone di te. Vabbè, ragazzi. No, però... No, parliamo niente. Ted Lasso è... Mi è piaciuto molto. Bellissima. Ho visto We Crashed, che è la storia di New York. L'ho visto. Già l'ho letto. Bravissimo. Ma anche lei. Lei. Siamo io e lui, perché non l'avete visto neanche We Crashed. Avete visto We Crashed. Ragazzi, cioè, è fondamentale. No, è bellissimo. Apple TV, che potete condividere, quindi lo fa uno. Poi per i Crazy Fury diamo una. No. Ha delle serie che si man... Opinione mia. Sì, sì. C'è Apple TV. Sì. Poi c'è uno spazio, no? Sei tipo, allora facciamo l'ultimo piano, abitano quelli che stanno meglio. Poi facciamo quattro piani senza nessuno e poi facciamo... E poi c'è Mughini sotto. Sotto. Però, no, le serie di Apple TV sono... Morning Show. Anche bellissimo sul tema dei media. Io penso che sia arrivato il momento di parlare di altro, perché... Vedo. E loro hanno vinto anche l'Oscar con Coda, che è questo film che tutti hanno visto, immagino. No, è il film dove è famiglia sordomuta, ma lei canta. Ah, sì, sì. E quindi, insomma... C'è anche il film con Tom Hanks, che lui da solo... Che non l'ho visto, quello. Merita? No, veramente? Merita. No, perché... No, 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 da solo riesci a fare un film. C'è lui, un cane e un robot. Tu dici, l'aveva fatto con una palla. Cioè, capisci, solo Tom Hanks può tenerti due ore e che fai... Wow, che... Com'è finito? Solo Tom Hanks, credo, possa fare... Senti, ho visto una storia ieri assurda di Tom Hanks. Praticamente una volta c'è un film e Tom Hanks è il tipo produttore, regista, attore, perché lui fa tutto tanto ormai, è Tom Hanks. E all'interno della scena c'erano anche dei personaggi, diciamo, ancillari, tra cui un tizio, Matti, che era lì, un po' comparsa così. A un certo punto, Tom Hanks va dal regista, gli dice qualcosa e il regista chiama lo scagnozzo. Lo scagnozzo va da quel tizio e dice, sorry, bad eyes, Tom Hanks doesn't want you anymore. Cioè, vai fuori da... Tradotto dall'anglese. Vedi l'inglese. A questo punto il tizio mandato via ha fatto un intero podcast, che si chiama Bad Eyes, credo, dove invita altri attori, registri o gente del cinema, per capire perché è stato mandato via. Ok? Questa è la storia. E l'ultimo ospite è Tom Hanks. Cioè, ha invitato Tom Hanks per spiegare, ma perché tu mi hai mandato via? Questo, non so, dopo dieci anni. E Tom Hanks ha detto, ma io non mi ricordo mica, non avevo neanche detto di mandarti via. Probabilmente hanno capito male, capito? E questo per dieci anni è andato avanti con questa nemesi di Tom Hanks. Capito? Vabbè, l'ho detto. Mi piacerebbe. Mi sembrava una roba simpatica, ma ho capito che... Capisci perché è meglio che mi occupi di dire il business di Jedi. La consapevolezza è una delle più grandi doti, secondo me. Cioè, succede, sai quante volte fai la battuta, c'è il gelo e fai... Oh, esatto. Magari questa la leviamo. Basta. Cioè, non è un problema. Andata. Non è che su due ore è via. Questo era un bel racconto, ci aspettavamo... Un finale diverso. Non dico lui nudo, però... Cosa fai quando fai una battuta e non... L'inglesismo è non lenda. Da land, the joke. Non lenda. Ma no, ma guarda, teatro, che è la mia casa, è difficile, nel senso... Il teatro ti dà la fortuna che non è importante ciò che dici, no? Ma è come lo dici, poi ci sono i movimenti, quindi... È difficile che una battuta non venga percepita, mentre quando la fai in tv, magari lo stesso pubblico che ti viene a vedere il teatro, ma solo per il fatto che tu sei lì, e a volte c'è quel momento di smarrimento, no? È dura... Il problema è che un secondo non è... Quando si dice, no, che il tempo... La relatività, no? È reale nella vita. Dipende sempre da come stai vivendo quell'emozione. 15 secondi. Tipo, guarda ieri la partita, calcio, niente. E, vabbè, loro l'hanno vista in teatro, ma ieri si giocava la finale di Coppa Italia, no? Magari in quel momento uno dice, dai, ormai vince, non può più perdere, no? Manca, no? Non ditemi chi ha vinto, perché la voglio vedere quando torno a Brighton. Aspetta ancora un momento. Una cazzata. Tipo Real Madrid l'altra settimana, no? Era fuori dalla Champions League, arriva il novantesimo, quindi dici, è finita, no? Quel minuto... E in realtà, in un attimo, è cambiato tutto, loro segnano, poi cambia la mentalità, vincono, perché in quell'asso di tempo ti cambia... La, Ted, Ted, tra l'altro, l'asso... Ok. L'ho voluta dire? Ah, aspetta, Ted nel senso film? No, sì, sì, la serie di... Ah, ok. Volevo che le dicesse solo lui. Sai cosa ho pensato subito? Il Ted, la conferenza, il Ted, capito? La mia mente... Ah, no, no, ma io non parlo inglese. Ah, ok. Ok. E quindi, cioè, non qui, non avrebbe senso, no? Esatto. Poi, potrei, potrei. Siamo a Brighton. Next time, Brighton. Next time. Ok. Penso se facciamo, vieni a Brighton, facciamo un quattro chiacchiere, tutto così in inglese con quelli di Brighton sarebbe interessante. Beh, guarda, ogni tanto la sera, tipo quando inizia lo spettacolo, chissà qual era l'argomento di cui si parlava prima. Non mi ricordo minimamente. Ogni tanto, magari inizia a volte il spettacolo, senti, e quando senti magari un po' di esagerazione, no? Tipo, tipo, un urlo nel pubblico, per iniziare parto sempre, hi, hi, thank you, I'm very happy to say hi tonight, oh, it's the first time here in Palmer, I don't know if, e vedi le prime file così, che cazzo succede? Cioè, è proprio, è un panico, ma vedi la faccia che, cosa io? Ma secondo voi? Ma no, era solo per mettervi del disagio subito, no? Perché, ah, first time Palmer, I'm Palmer. Così, solo per un ricordo. Basta. Se una battuta non funziona, per riportarti all'ordine, perché è una chiacchierata questa che ha una sua scrazione importante. Era letto, mi sono molto... E che cosa fai? No, vado avanti. No, a volte chiedo anche, proprio mi fermo e faccio, e niente, l'ho fatta. Vado, prendo l'acqua, bevo, tutto questo teatro mentre ce lo so, sì, sì, perché vorrei condividere con loro la schifezza che è appena andata, è importante, non devi far finta che non sia accaduto, giusto? No, no, devi sottolinearla, così ti entra nella testa. Ma non fai come fanno i vari stand-up comedy americani che fanno il periodo di preparazione di un anno prima di fare lo speciale Netflix dove vanno nel pub dieci persone, cinquanta persone, provano, fanno tutti i jokes, test e poi... No, io lavoro in un altro modo, io faccio tipo un centinaio di spettacoli a teatro. Perché andare in un pub, scusami? No, poi in Italia da noi non usa, non ci sono questi locali, non ci sono più. C'erano, ma sempre meno, poi ci sono 30 persone, insomma, con tutto il rispetto, ma stare in un teatro, magari mille, duemila, insomma, faccio tipo adesso, per esempio, sto facendo questo tour, finirà, a dicembre faccio uno spettacolo dal teatro di Taormina, teatro meraviglioso all'aperto, teatro antico di Taormina, quello verrà ripreso da Prime Video, no? E metto magari le cose che hanno funzionato un po' di più durante questo tour, ma in realtà io vivo molto a teatro sulla attualità, quindi da qua a settembre, quante cose... tengo magari 20-30 minuti e l'altri 45, un'ora la cambiamo. Poi in dieci minuti te lo diamo noi di materiale oggi uscito, perché senz'altro sarà venuto molto bene. Ma è meglio l'inizio o la fine? Perché all'inizio sei più sporco, tra virgolette, e capisci magari ancora poco quali saranno le battute, i momenti migliori, però sei più fresco. Alla fine invece hai già rodato, però dopo un po' ci avrai due punti così. Guarda, ieri sera, dopo... ero un'ora e 40 e dentro pensavo, io ora mi impicco. Mentre ero un'ora e 40, stavo parlando, la gente rideva e dentro di me pensavo, sto per svenire. Non ce la faccio più e non mi ricordavo se avessi già detto quella battuta o no, perché era passato un giorno. C'ero io, la marmotta, sai, il giorno... C'è stato un momento che mi sono fermato e ho detto... Hai visto Bill Murray? Sì. E ho detto, boh, non lo so, che pronuncia, ragazzi? Ne avrebbero detto Bill Murray. No, ve lo dico per voi, che magari... Sorry, I'm English. A me piace molto la pronuncia. Cioè, guarda, io i video tuoi li guardo e mi piacciono le parti dove dall'inglese poi traduci in italiano, no? Ma te lo giuro, che dico, lo parla bene e poi ti lamentavi un giorno che non parli bene l'inglese. Non so parlare inglese, non so parlare inglese. Ma neanche gli inglesi sanno l'inglese. No, ne sono certo, no. Non è possibile, guarda, ho degli amici inglesi, secondo me fingono quando ci sono io. Cioè, non è possibile fare... Non è vero, non è vero. È come se noi italiani facessimo... Allora, ci vediamo dopo, ok? Dai, cosa ho detto? Non è... No. L'australiano, poi lasciamo perdere, un amico... Che vive nell'Australia e ricordo un giorno una video, una chiamata sua con uno del lavoro, io l'ho andato a trovarlo e lui... Ho detto, dai, non è vero. O è alfabeto Morse, non è possibile. Non c'è un linguaggio, non ci sono le parole dentro. Lo gli fa, noi ci capiamo. Come fai a studiarlo? Come puoi dire ai ragazzi andate a scuola? Non esiste. È difficile. Lo puoi parlare solo in Russia? No, è vero. Adesso, no, lasciamo stare il momento storico. Però è facile, no? Yeah. I'm tired tonight, no? It's the first time here. I like it. Why not? Why not in Brighton? Così è facile. Puoi andare solo nei paesi... È vero, no? Lo devi... Lo parli dove fanno difficoltà anche gli altri. È bellissimo. Parlare l'inglese in Francia è una delle cose più divertenti. È facilissimo. Perché già loro non piace... Cioè, a parte che loro non piace... Odia nessuno. Quindi, se tu vai... Speak English... E ti rispondono con l'inglese ma francese. C'è di una difficoltà impossibile. Quindi ti devi adeguare, ecco. Diciamo che da quella parte... Io ho iniziato a fare più interviste in inglese adesso perché nel mondo, diciamo, web 3, questo mondo qua, insomma, un po' più NFT, cose, eccetera, sono tutti tendenzialmente, non so, Russia, Asia... Cioè, non madrelingua. E allora mi sento meno in imbarazzo, ecco. Perché a volte invece parlo con uno che dico, ma questo qui... Cioè, non riesco neanche a capire esattamente. Quindi io lo guardo, ma il mio cervello processa dentro e penso... Che cazzo ha detto... E penso, adesso, next question... E poi a volte sbaglio magari la reazione. Cioè, c'è proprio quel momento che l'ospite ti guarda e pensa, proprio non hai capito niente. Io penso, lo so che non ho capito niente. No, ma infatti, guarda, adesso facciamo... Il tour si chiuderà il 27 maggio. No, ma te lo racconto per un motivo, no? Faremo lo spettacolo a New York. Perché, dico, la cosa bella di parlare l'inglese a New York, io sono stato una volta nella mia vita, no? E ho avuto delle difficoltà mostruose, perché dall'altra parte, proprio non era inglese. Cioè, mi chiedevo... Mi lamento io, no? Di come noi parliamo inglese, e dall'altra parte... Ho detto, cos'è? Cioè, è veramente complicata quella roba lì. Tant'è che, quando Ricky Gervais presentò i Golden Globes... Come si chiamano? Golden Globes, sì? Golden Globes, sì. Che lui disse... Golden Globes, sì. Va bene. Signora, anza proprio... E io dico, Golden Skulls, sì. Doveva presentare Kevin Hart, che tu sei comico, secondo me. Lui è una multinazionale. Una multinazionale, e penso forse il primo miliardario al mondo. L'unico comico al mondo con un contratto con la Nike. Una roba folle. E' un pazzo, mitico. Lui aveva fatto delle battute, un po', secondo me, vabbè, fuori contesto, fatte anni prima, no? Sulla sessualità del figlio, eccetera. Quindi, quando arriva il momento di presentare gli Oscar, escono fuori, no? E lui, piuttosto che chiedere scusa, rinunciò a presentare gli Oscar. E Ricky Gervais disse, poi a Golden Globes, è incredibile che abbiano vietato a Kevin Hart di presentare per delle battute, no? Se penso a cosa ho scritto io, ma per fortuna qui voi non parlate inglese. Ho questa roba. E quella roba mi è rimasta impressa, no? Che è vero. Cioè, se te lo dice un inglese, allora è così. Sì, sì. Mi fai, mia moglie è inglese, e quando sente gli americani parlare, è come dire, eh, it's American. Sai qual è il problema che io trovo nell'umorismo in lingua inglese? Che i riferimenti culturali sono proprio completamente diversi. Quindi, se tu chiaccheri con qualcuno, lui magari ti dà lo spunto per fare una battuta, o anche magari per... è un qualche cosa che ha senso nella sua cultura. È come se tu dici, è l'effetto Mughini, non so, mi dici. E se io sono australiano, non so che cosa sia l'effetto Mughini. E quindi non lo aggancio, salto quel passaggio, perdo un'occasione di avere un'interazione simpatica o interessante. E quindi è quella parte lì a volte difficile. Guarda, qualcuno, no? Negli anni, sai, magari parli con colleghi, dicono, ah, è il mio sogno, no? Ti dicono, se pensi ad andare in America, no? Traduci lo spettacolo e lo fai. E io, più di una volta, no? Mi è capitato a dire, ma non è così. A parte che non si traduce l'umorismo, ma poi loro vivono... Cioè, dovresti vivere trent'anni lì e puoi scrivere il primo spettacolo. Non puoi andare lì e lo traduci. Lo puoi fare in Spagna. Perché bene o male siamo molto simili, a parte qualche riferimento, no? Ma noi siamo uguali agli spagnoli, no? Se tu vai in Spagna puoi vivere tranquillamente, senti a casa. Ma in America, come credo in Inghilterra, credo che sia totalmente diverso. Non è una questione di tradurre le parole, no? Eh, se no, sarebbe facile. In realtà vai e fai un umorismo che è diverso. Io a volte mi guardo i loro spettacoli, ci sono delle cose che non le comprendo. Anche perché magari lì, per esempio parlare di sessualità negli Stati Uniti ha un'importanza. Qui non è un argomento che ci tocca tanto. C'è David Ciappel, che è un mostro. Che è la Ciappat. Lui tratta sempre quell'argomento lì, no? Però lì è un argomento importante, che qui noi siamo... Non lo so. Quindi è molto importante la cultura del paese, dove lo fai. Perciò o vivi lì, ma da anni, o è bene stare a casa tua. Sono andato... Ogni tanto vado a Brighton, ci sono gli stand-up comedian nights, dove vai e metti una saletta così e entrano gli stand-up comedian, che presentano il loro materiale o sconosciuti, conosciuti, ma dipende. Ad esempio Brighton, che è capitale europea gay, è il gay pride più grosso d'Europa, l'umorismo, nei momenti in cui tocchi gli argomenti LGBT, non lo puoi fare con l'umorismo italiano. Cioè, o ti arrestano, o la gente proprio non ti capisce, no? O non sei per niente divertente. E quindi è pazzescamente diverso, ecco. Di città in città anche, questa è la difficoltà. È un altro mondo. L'umorismo, secondo me, è come la cucina. Ok? Cioè, che bella questa partenza. Aspetta, aspetta, vai. No, no, no. Si finisce qua, non credo di avere... Un seguito. Col titolo... Dovreste già essere a posto per tagliare e mandarla così come... Chiuderei così. No, però è vero, la comicità è una cucina, no? C'è la comicità francese, c'è la comicità spagnola, no? Come c'è la cucina, tu la puoi fare, la puoi far finta di saperlo fare, ma non è... Non è come una canzone, ecco. La canzone è un'altra cosa. La canzone... Sono fortunato, vedi i cantanti anche italiani in giro per il mondo quanto... Ma la musica è una cosa, ma l'umorismo, così appunto come i nostri, è complicato, è un lavoro molto difficile. Ecco perché meglio farlo, no? Io qualcosa all'estero avevo fatto, ma sempre per gli italiani, no? Cioè, così ha senso. Tu vai, avevo fatto anche Londra, tra l'altro bellissimo perché era una chiesa sconsacrata. Wow. Vai, le bestemmie, il pomeriggio. Come fai a capire prima... Sei sconsacrata? No. Guardate, rido poco perché mi manca... Allora, posso... Non dirla, non dirla. Ti ho detto tutto, ma non dirla che ci rovini la ripresa. Mi mente in imbarazzo. Ho dovuto levare un dente tre giorni fa e non ho avuto tempo di mettere il provvisorio. Quindi sto così. A volte faccio, non so, foto arrivano di ragazzini, facciamo la foto io. E io, è una risata più convinta. Non posso, non posso. Il città non passa. O sto così. Come si chiamava lui? Jim Carrey? No. Jerry Lewis? No. La spia... Austin Power. Austin Power. Quando faceva il cattivo. Che aveva il gatto. Mini Man. Ok. Austin Power. Grazie. Chi è che l'ha detto? Grazie. No, no, perché due giorni che mi chiedo chi fosse. esatto. Ci pensavo due giorni. Dicevo, ma chi era? Una conoscenza profonda. Lo chiedevo a chi è vicino a me. Ho detto, dai, quello è tu. Dai, mini me, il gatto. No, no, no. Ma sei sicuro? Addirittura la domanda. Sei sicuro esiste? Come fai a capire, quando prepari uno spettacolo o se devi fare qualcosa in tv, se quella battuta funzionerà? Cioè, una cosa che valuti tu e dici a me fa ridere e quindi la dico. Arrivederci, grazie. Come fai a trovare? Perché io non saprei da dove partire. Da dire, vabbè, faccio sta battuta, ma come vedi, una volta che faccio una battuta, silenzio, non so com'è. E quindi mi manca proprio... No, vabbè, ma io vado di... Allora, nel senso, adesso la tv ormai quasi più niente tranne rifare i miei spettacoli, proprio perché il tempo uccide il comico, no? Cioè, quando hai sei minuti, ma non... C'è bisogno di scaldarti, no? Devi far capire dove sei, non è che... Torniamo sempre lì, non è che il ristorante fa antipasto, buono la cena? Sì, no. Non lo so. Devi mangiare il primo, assaggi il secondo, dici, magari non mi è piaciuto quello, ma col dolce ha chiuso la grande. E quindi ho bisogno di tempo. E la tv non ti dà tempo. Allora, se non c'è tempo... Perché poi col tempo, magari anche sbagli, io non mi faccio adesso tante domande, nel senso che... Sai che ti giuro, non mi ricordo la domanda. No. Guarda, ti stasso dire. Posso essere senso, sai che non me la ricordo neanche io? È un giorno e mezzo che vado in giro, sai... Non mi ricordo perché come siamo arrivati qua. Ma tu fai quella attività di ginnastica artistica... Ah, no. Vabbè, non mi ricordavo cosa... Questa è la seconda che dice che va nel vuoto. Vabbè, l'ho detta, faccio come vado a prendere l'acqua. No, bevi l'acqua, fai. Bevo l'acqua. Ma insomma, forse non dovevo venire. Nel senso, quelle domande... Oh, flalalai. Qual era quel comico che... Alle france. Alle france. Ah, sì, quando scrivo. Quando scrivi, come fai a saperlo? No, scrivo... No, non lo so. Faccio, provo, fa ridere, non fa ridere, si va avanti. Scrivo molto velocemente, però. Quindi, la mia... No, 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 nel senso, la mia fortuna è la capacità di scrivere, che è fondamentale, secondo me. Quindi mi scrivo tutto. Magari, in dieci giorni, mi scrivo lo spettacolo nuovo. Capito? mi metto a casa, e poi vado. Ma hai, come dire, un sistema di costruzione delle battute dove dici, ok, deve partire, ci deve essere, non so, un aneddoto, e poi ci deve essere un po' più... No, no. Come funziona? No, vado come stai, anche di umore. A me piace molto, tipo, a teatro, i primi 30-40 minuti sono news a livello mondiale. Cioè, cose che accadono, perché secondo me è importante essere oggi. Non potrei mai fare uno spettacolo per due anni uguale. Quindi, tante che alcune persone vengono a vedere magari all'inizio del tour, vengono alla fine, tre quarti è cambiato. E io dico, sì, perché cerchiamo di stare oggi, no? Secondo me è importante perché il futuro vorrei fare solo quello. Cioè, fare due ore di... La news non vuol dire essere una rotola di... Però le notizie nuove, se tu le prendi, le trasformi, possono essere divertenti perché sono attuali, no? Ecco, tutto lì. Hai notizie da Brighton? No. Mai. C'è questo signore che giocava a ping pong. Però dai, abbiamo... Aspetta, ho visto una foto di lui con i capelli, sembra mio padre, io non ho mai visto mio padre con i capelli, mai. Cioè, sono nato, secondo me era già calvo. E un giorno mi fa vedere, ma tipo qualche anno fa, io adesso ne faccio 47, Dianne. Lui mi fa vedere una foto... Porca mia, 47? Sì. Ne faccio 50 adesso. Mamma mia. Prendiamo una smart e ci suicidiamo? Tipo Telma e Luiz, però basta andare in una buca qualunque in città. Sì, è finante io. E quindi mio papà mi fa vedere una foto di lui a 18 anni, sembrava, te lo giuro, quando fanno, sai, non lo so, le gifle, cose con i gatti in testa, sei finto? E io dico, quanti capelli lui. Mi guarda con quel fare arrogante, mi fa. E io dico, cosa? Ne avevi 18? Quando me l'hanno fatta vedere ne avevo 45, c'è un abisso, sono nato, eri già calvo, non sapevo da dove guardarti, quindi, cioè, senza barba poi mi ha partito, quindi era un gomito. Era un gomito. Era un gomito. Però è bello, è bello essere senza capelli. L'altro giorno ho interattato un ospite e volevo parlare. Sarà. Era un ospite con la mia stessa pettinability, e l'unica cosa di cui abbiamo parlato è, ah, ma come ti irradi tu? Dici, ho questa macchinetta adesso. Tutti, nei commenti, tutti diversamente capellosi come me, ma è l'inca la macchinetta? Qual è la macchinetta? Tutti con la macchinetta. Pensa che io parlo con le donne di lacca. No. Ognuno ha gli argomenti. Vabbè. Ma sono andato a vedere Matthew McIntyre, ce l'ha presente? Quello inglese. È molto per famiglia lui, il classico comico inglese per famiglia, così. Le sue battute sono sulla vita di tutti i giorni, se vai da Waitrose, che è come dire l'S lunga, no? E fa tutte le sue battute. E sono andato a vedere una volta e lui è arrivato tipo in ciabatta con una lista di battute e un pennarello. e con gli occhiali su proprio perché non vede neanche, che non mette nello spettacolo. Di solito, leggeva allora Hello, joke one. E faceva, diciamo, dava un minimo di intonazione ma neanche tanto. Poi, reazione zero, alright, let's cancel this. Così col pennarello. E tu paghi per andare a vedere il suo spettacolo preparatorio, capito? E quindi era carina come cosa. Quest'idea è molto bella. Sì. No, io per esempio uso una lavagna ormai da anni dove spiego le più difficili. Ah, wow. Ma lavagna con pennarello? Con pennarello? Penarello di gesso. Ah, ok. Sì, 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 no, io sono un po' vintage come mentalità. A me quelle, no. E quindi scrivo, così posso cerchiarlo, indico, capito? Cerco di portare, perché se no c'è un disagio là fuori. E allora a volte cerco proprio di dire, no, capite? quindi a volte poi proprio la X quando percepisco il nullo totale. Sì, 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 sì. Ma tu sei sempre stato così? La rielabro, aspetta, aspetta. No, perché dopo che mi ha parlato del gomito, adesso devo, come dire, ancora assorbirlo, ma no, quando eri sbarbato, cioè avevi già questa vocazione oppure l'hai scoperto perché hai cominciato a fare degli studi apposta? No, no, ho lasciato, vabbè, intanto... Tu cosa hai studiato? Io mi vergogno. Io sono un geometra. Wow, un geometra. L'unica cosa che mi piace fare è tipo quando c'è da fare, non so, dobbiamo prenderla a casa quando siamo sposati, ah, disegno tutto io, cioè quella roba lì mi piace ancora e ho gli spazi nella testa, quindi quando viene qualcuno a casa non veniva, allora, qui facciamo, qua mettiamo un divano e io guardavo e dicevo scusami, non ci sta. E vedevi quello, no, no, si fidi, no, proprio non ci sta con le misure che dici, vi dico solo che viene uno a metterci delle tende, sai il loft alto, no? Non era difficile da capire, era 6 per 6, un quadrato, ma a vista lo vedi con un quadrato, e lui arriva e fa allora, sai col coso, lui arrivava dal Padova, no, perché ce l'avevano consigliato, arriva, allora, 6 metri la lunghezza, poi si mette lì, e fa 3 metri e mezzo l'altezza, e io dico, scusami, credo che ci sia un problema nel macchinino, ma preciso, 6 megadà, e ho detto, no, ma sai che l'ho dovuto fare così, ho detto, ok, 3 metri e mezzo, quanto sarò alto, ho detto secondo te, sarà 1,80, perfetto, ora arriverò a 2,40, 2,30 almeno, sì, secondo te manca un metro, il soffitto, allora è rotto, sì, non vedi, cioè, ecco, quindi ho fatto quella roba lì, e mi sono rimasti i numeri nella testa, però, no, non riesco a, quando vedo uno spazio che potrebbe essere occupato meglio, impazzisco. E cosa hai fatto dopo il geometra? Dopo il geometra, beh, chiaramente subito il diploma l'ho preso, ho detto, tiè, e ho fatto il cameriere, ho lavorato, no, poi ho iniziato, però come calcolavi gli spazi del tavolo? vabbè, con le mance ero il numero uno, tata, però, no, e poi avevo, ecco, una cosa che quando io vedo i camerieri, è un lavoro che mi è rimasto proprio dentro, che lo sono fatto un mazzo, quando vedo un cameriere bravo, un ragazzo giovane, che si applica, lo vedi subito, e pensi quante opportunità avrà davanti, perché magari ha solo 18 anni, ma quella cosa che fa, la fa col massimo impegno, e quello per me è fondamentale, non è ciò che fai, ma è come lo fai, quello ti può portare nella vita a fare le cose sempre meglio, e a volte vedi, ragazzi che corno, e poi ci sono i camerieri, quelli che chiamo io, con un problema all'occhio, che sono, che tu sei seduto, lì cerchi, loro ti passano davanti, ma sempre così, sempre, cioè pur di non, capisci, che tu dici, entrerà in questo spazio, deve entrare, loro passano da giù, subito, non ti danno possibilità di chiedere magari, l'acqua, non è possibile, cioè li devi aspettare con la gamba così, è una follia, ok, quindi ho fatto quello, e poi ho iniziato nei villaggi della Valtour, ho cambiato completamente, ho fatto l'animatore per anni, Valtour a quei tempi, villaggi in tutto il mondo, è stato, bellissimo, non posso, non lo so, sai quando uno torna indietro, quando pensa, se potessi tornare, no no, sono a posto, non voglio tornare indietro, sono stanco, solo se ci penso, no no, è stato bello, poi in tanti posti molto belli, lavorare, avevamo la fortuna di poterci, io ho vissuto un anno a Cuba, vabbè, lavorare le Maldive, i Caraibi, dalla Grecia, tutto, insomma è stato molto, molto bello, e poi hai fatto, diciamo, una formazione anche più tradizionale, oppure no, sempre da, no, poi ero lì, venne un talent scout, che purtroppo oggi non c'è più, che negli anni aveva scoperti tanti, nei villaggi, da Fiorello in su, perché lui lavorava con Cecchetto, erano gli anni in quelli, mi dice, guarda, c'è Marco Baldini, che lavorava a Radio DJ, che è passato a una radio nuova, si chiama Radio Italia Network, questo era il 2000, allora lui venne al villaggio, mi dice, perché non vai a Milano, ti faccio provare con lui, vedi come va, io arrivo, nel panico, piuttosto, perché il provino ammazza, c'è il provino, è una roba che andrebbe abolita, secondo me, il provino, come funziona un provino, ma un conto, Baldini era molto bravo lui in radio, no, Baldini, secondo me è stato una delle cose più divertenti, che abbia mai sentito, cioè bravissimo, anche dal vivo ti parlava, era in Dolby Surround, questa era la cosa di Marco Baldini, no, e quindi io arrivo lì, non dimenticherò mai, perché era l'estate, guarda, era il 2000, e vi ricordo perché, perdemo con la Francia, terribile, ancora ricordo, Treseghe a casa, Treseghe poi, siamo il giocatore, quello di volleyball, e noi siamo rimasti, insomma, spezzati, io faccio finta di niente, perché, e quindi, insomma, niente, arrivai a Milano, in radio, immagina che hai davanti Marco Baldini, lo ascolti da quando sei ragazzino, che ti parla e fa, dai, fammi qualcosa, io ho detto, madonna, io non riesco, parlavo, balbettavo, uno schifo, lui mi guarda, e veramente mi dice, senti, vado a lavar la macchina, mi accompagni? Vabbè, tanto riprendo il treno domani mattina, grazie, lo stesso, salgo in macchina, in macchina mi rilasso, con lui, e comincio a raccontargli tutte le cazzate, che facevo, facciamo, laviamo la macchina, facciamo un giro per Milano, torniamo su, lui va dal direttore, lo prendiamo, cioè, in realtà, il viaggio nella macchina, mi ha capito, ma perché ero più libero, ero come adesso, quindi lui ha cominciato a ridere, ha capito cosa poteva usare di me, e da lì siamo partiti, quindi ho iniziato con la radio prima, che è una cosa che amo, e se c'è una cosa che andrebbe abolita, è la televisione in radio, non ha senso. Cioè, quando riprendi, lo studio radiofonico, la radio è la radio, tu sei in macchina, tu sei a casa, hai quella possibilità, intanto di immaginare, chi parla, cioè, il bello della radio, è che potevi andare in tuta, capito, con un popcorn nell'occhio, e non interessava a nessuno, adesso li vedi la mattina, e buongiorno, allora ci siamo, sono figo o no, chi se ne frega, e la radio, hanno, secondo me, disintegrato la radio, la radio è la radio, la comunicazione, secondo me, ogni luogo, ha un modo per comunicare, ci sono i social, c'è la radio, c'è il teatro, c'è il cinema, che è un'altra cosa ancora, e poi, insomma, ce ne sono varie, a me interessano quelle, e per me la radio, doveva restare quella, invece adesso è tutto, è sempre, a volte tu fai un collegamento con le radio, che non faccio più, perché, ci sentiamo su Skype, ma perché dovrei usare Skype, per fare una diretta su una radio, ma al telefono, così posso allontanarmi, fare una voce, non su Skype, dopodiché, io quello penso sempre, tu sei in macchina, e senti persone che parlano, sapendo che si stanno vedendo, è completamente diverso, loro sanno che si vedono e fai, cos'è che fai, chi è in macchina, si chiede, perché ridono, perché ridono, e loro, vabbè dai, a dopo, e poi dall'inizio, ci vediamo dopo, in radio, sì, basta, e poi, quella roba lì, perché, io la radio, la trovo, difficilissima, e, ho capito, di essere completamente incapace, in radio, quando un giorno, mi chiama Rosario, per fare, delle pilloline, di un minuto, sul Rosario della Sera, e, dice, dai Monti, Allora io, hai guardato l'orogio, come dire, ti sei rotato, cioè, già, l'aneddoto ti aveva già stufato, ok, sicuro, devi andare, no, mi si era stretto un pelo dentro, ah, ok, era, insomma, mi chiamo Rosario, molto femminile questa cosina, secondo me, noi due, bu, non lo so, va bene, faremo, prima o poi, Brighton, te l'ho detto, prima, insomma, non so se l'hai colto, io, io sono uno che, e qua volevo fare, io sono uno che viaggia, io mi sposto volentieri, eh, insomma, mi chiamo Rosario, dice, dai, fai questa, allora, registro questo minuto, e, quello di cui mi sono reso conto, è il respiro, cioè, io in radio parlo così, allora, oggi parliamo di Netflix, e ci sono questi, respiri in continuazione, e allora ho chiesto a Rosario, ma perché quando parli tu, non ti sento mai respirare, non prendi mai fiato, e lui dice, sì, perché io, non prendo mai fiato, cioè, parla, la fa tutta diretta, capito, fa un minuto, e poi, e poi, questa è di una difficoltà incredibile, la radio, davvero, per me è impossibile. No, la radio è uno dei lavori più difficili, ma per fortuna, guarda, ti ripeto, mi muore, piange il cuore, ogni volta che vedo una tv abbinata, è una cosa, non lo so, non mi, non mi capacito. e di tutti i vari, diciamo, della cross-medialità, che hai seguito in questi anni, di tutti i posti, C, E, ma radio, televisione, e mamme di Goldrick, che cosa ti piace di più, in assoluto? Voi che ti esprimi, ecco, mi piace questa roba, è il massimo, è il top, è teatro? Sì, teatro, teatro è la casa dell'arte, il teatro, e il teatro non mente, cioè il teatro, la cosa positiva, è che, vengono tutti a vederti la prima volta, è la seconda volta, che te li devi guadagnare, alla fine della prima, quindi, quella cosa lì, è bello, perché almeno, premia, chi veramente lo fa, con impegno, con, e poi è vita, nel senso che se tu scegli di vivere a teatro, quella sarà la tua vita. Ok. E adesso vedo che ci sono tante cose, che non comprendo, ma, va bene, il problema è che adesso si mischiano troppo i generi, ok? Sono delle cose che devono stare al loro posto, e invece, si mischiano, no? Prendi magari da TikTok, lo metti in TV, credendo che i suoi follower, ti guarderanno, ma perché? Non succede mai, o quello ha milioni di follower, allora li fai fare il film, partiamo dal presupposto che i milioni di follower, sono gratuiti, e il cinema costa, cioè ci sono delle dinamiche che io non comprendo, però mi limito a fare lo spettatore che guarda e dice, chissà perché, è possibile che uno in quel tavolo abbia detto, scusate, secondo me è una cazzata, no? Il cinema, devono pagare 8,50 euro? a casa lo vedono gratis, non è detto che funzioni al cinema, no? Come magari funziona teatro e non funzioni al cinema, giusto, o viceversa, è anche bello così, lasciamo che ci siano vari mondi e lasciamo lì dove stanno, perché se no succede un disastro. c'è una stand-up comedian, tra prendersi, abbiamo ancora dieci minuti, se c'è una domanda, la prendo, eh? Cosa che, all'evento di oggi, devi sapere questo, all'evento di oggi, ad un certo punto, parlando, ho detto, domande al pubblico, ne prendiamo, e ho visto quella reazione, come dire, meglio di non lasciare un perdere, capito? E quindi ho detto, vabbè, anche adesso è quell'ansia, esatto. La prendo io però, ti dispiace, e poi te la riporto. Dopo tu me la ritorni, come mi ha detto il mio amico l'altro giorno, l'ho contatto e poi ti ritorno. Sì, faccio la sponda, tu me la dai, ma in profondità, te se ne palla. E io, te la metto. Ali Wong, ce l'hai presente? Quella asiatica, fatto Baby Cobra, qualcuno ha visto Baby Cobra su Netflix? Sì. Tu perché hai la mano alzata, perché fai la domanda, o perché l'hai visto? Ah, ok, ok, va bene. Non capivo, era fermo così. Baby Cobra, sì, l'ho visto. Bellissimo. E ad esempio, ho visto il film con lei, e lei non è per niente divertente nel film, ed è, per me, straordinaria invece come stand-up comedian. E così magari hai qualcuno che ti, anche per dire, Richie Gervais, a me piace come stand-up comedian, come recitazione, io non so, non riesco proprio a seguire. Allora, credo che in Afterlife sia magnifico. Io non l'ho visto Afterlife. Ma solamente perché esce esattamente, e beh, lì c'è tutto una, è tutto un pensiero del clown, ok? e credo che lì esca perfettamente il pensiero del clown. Assoluto, lì è il clown assoluto, tristemente felice. Nei film, infatti, non ricordiamo dei titoli. No. Però, credo che sia il limite di quelli molto bravi. È una roba folle, ma Gigi Proietti è stato, secondo me, la cosa più divertente, più grande a teatro. Eppure, se escludiamo Febbre da Cavallo, che però ha avuto successo 30 anni dopo, non ci sono dei film che tu ti ricordi con Gigi Proietti. No. E se li ha fatti non ha incassato, perché non funzionava, perché lui era nato, per stare là. Nel senso che poi quando arrivò il successo, io mi ricordo un'intervista sua, dove mi disse Febbre da Cavallo, poi 40 anni dopo, e lui fa, perché ci sono arrivati. No. Ed è una mentalità giusta, l'hanno capito dopo, era troppo tardi, ma quando uscì il film, che secondo me è divertente da morire, non avevo... Che l'hai visto, vero? No, non l'ho visto. Però, ora che l'hai detto, lo andrò a vedere. Credo che i tuoi figli facciano bene, a correggersi. Quotidiano. Anzi, se mi lasci un... Proietti faceva la gag Numero per K? No, Numero per K. No, non era mai volgare. Ed è una canzone francese quella. Che è la migliore, quella gag a me fa morire. È una canzone francese vera, e lui, con la stessa musica, con gli stessi... Tutto è uguale, tranne Numero per K, usando solamente Numero per K, e dura minuti. Quella è l'arte. Tutto il resto sono battute. Io mi ricordo che feci vedere quella gag a uno dei miei figli che aveva 15 anni in quel momento, e era troppo lenta. Non riusciva... Dopo mi diceva, ma quando è che si ride? E vabbè, per forza. Adesso è tutto montato, è... La gag... Sono due mondi. Vado a prendere la domanda. No, vado io per te. No, vado io, vado io. Te la prendo, perché tu sei l'ospite, devi essere capito a tuo agio. Tranquillo, non ti voglio... Come diceva il mio direttore, a Sky G24, mai dare il microfono al pubblico, capito? Ecco. Beh, intanto grazie, sei fortissimo, è davvero un piacere conoscerti. Tornando al discorso che hai fatto prima del teatro, del cinema, della radio, eccetera. Vorrei sapere dal tuo punto di vista degli streamer, di Twitch, di questo mondo. Non so se segui YouTube. Seguo tutto. Seguo, esatto. Seguo tutto, ma cerco di stare al mio posto. Cioè, vi faccio un esempio. Quando mi hanno detto, perché non apri un profilo TikTok? Perché ho rispetto dei ragazzi. Nel senso, credo che ci sia un limite d'età. Quando vedo uno della mia età su TikTok che fa il minchia, andrebbe... Sto cercando almeno col taser, ok? Andrebbe almeno col taser. Da dietro, da dietro. O vedo le donne della mia età che fanno dun, dun, tacatacata. Perché? Non hai un figlio in casa che dice mamma? Ok? Quindi, io guardo tutto. Credo che ci sia un problema ora. Persone un po' troppo grandi vogliono entrare in un mondo che forse dovrebbero mettersi da parte. Ecco, ma è una mia idea. Quindi Twitch lo seguo, mi piace molto quando ci sono. Dipende chi c'è, ci sono i ragazzi, mi piace seguirli. Oppure vedi, non so, le clerks su Twitch che fa la gara, quella è una figata, no? Dici, guarda, un pilota di Formula 1 che si mette lì e a volte vedo delle cose anche più grandi di me che fanno su Twitch cercando un linguaggio facendo finta di usare un linguaggio giovane che penso, chissà i ragazzi che guardano, chissà quante ne pensano, no? Che boomeraggine. Sì, ecco, da lì credo che esista. Quindi, io sto nel mio, ok? Per me il limite credo che sia la radio, ma Instagram, ma perché io racconto i tour, Quindi, ma lo cerco di farlo, ci penso sempre mille volte prima di mettere una cosa, dico, usare termini giusti, non invadere lo spazio dei ragazzi di vent'anni, stare al mio posto, è importante per avere rispetto, se no poi per strada ti vedono, sono spietati i ragazzi, poi ti vedono, guarda, guarda, Ma no, quello sfigato che fai TikTok, ecco, vorrei non sentirlo mai, non vorrei mai sentirlo, quindi su TikTok, mai. Dammi un consiglio, dacci un consiglio su qualcosa di interessante da vedere, o che per te è di ispirazione dal punto di vista tuo, professionale, o di performance, o di intrattenimento, c'è qualche personaggio, o film o serie o libro che dice, ah, questo è forte, e se ci sono altre domande arrivo a prenderla. Allora, il mio comico preferito è francese, si chiama Gad Helmalet, che poi in realtà è di Casablanca, però poi ha vissuto tutta la vita in Francia, eccetera, è un comico spaziale, secondo me, è il massimo, lo accomuno a Ricky Gervais, ecco, come capacità a livello mondiale penso siano i miei due preferiti, però diciamo che Gad Helmalet è il massimo, e io sono andato a vederlo in Francia con mia mamma, perché mia mamma vive tutta la vita, ha vissuto il confine con la Francia, quindi mia mamma parla francese perfettamente, io sono andato e d'ascolto bene o male un po' il francese lo comprende, però chiaramente a quella velocità era una parola ogni cinque, oh, eppure ridevo, e lì capisci che quello che hai davanti è il genio assoluto, tant'è che poi l'ho visto su Netflix, magari in uno spettacolo in inglese, e si percepisce la traduzione mentale, c'è poco da fare, o sei madrilingua o non lo puoi fare, o comunque fa ridere perché lui ha avuto un successo negli Stati Uniti pazzesco, perché lì se sei bravo vai avanti, però in Francia è un'altra cosa, quindi dopo che lavorerai, perciò vi consiglio di vedere Gad Helmalet in francese con i sottotitoli, ne vale la pena, è qualcosa di straordinario, la velocità, cioè dai francesi già è rapido, ma sono tutte, e poi è un mimo, è un clown, molto bravo, super, avesse una domanda lì, al volo dai, prendo l'ultima, ogni volta che passo ho il terrore del cavo, capito, che strappo tutto, oltre ai tuoi menischi, che sono, oltre ai menischi ormai delicati, ti chiami? Scalino è un metro, Luca, Luca Faccin, complimenti, bella esperienza anche oggi, noi qui siamo, qui per un motivo anche perché siamo collezionisti di una serie di NFT di Marco e questo mi ha permesso oggi di essere qua direttamente con voi e di conoscervi così vicino, volevo chiedere a te, come vedi queste iniziative del mondo degli NFT per personaggi come voi, come te, nel mondo dello spettacolo, può essere un modo per avere la community chi ti segue più vicino, quindi avere anche queste esperienze dal vivo? guarda, è un argomento di cui volevo parlare ma non volevo, no no, non volevo uscire da, ci sono magari delle cose che tu pensi, cacchio questa dovrei dirla, però poi mi sto divertendo e c'è tempo sempre per fare le cose nella vita, quindi in realtà sì, usciremo con una collezione NFT, sei serio? sono serio, sì, giuro, sei serio davvero? sì, si chiama le young clown, che sarebbe il giovane clown, è vero? sei serio, vero? sono serio, giura, te lo giuro, giura su Mughini, no scusate, prendo una cosa perché io tecnicamente non ci capisco niente quindi ho un gruppo di ragazzi molto giovani che si sono proposti, mi hanno detto ma possiamo noi crearti questa cosa qua, quindi abbiamo parlato, io chiaramente è un mondo difficile da capire, è difficile, però mi piace scoprire le cose, non andavo a rompere le balle a nessuno per il solito discorso di cui parlavamo prima, quindi non è che vadano e poi mi piaceva molto l'idea un po' folle di fare un giorno, magari non succederà ma ipotizziamo che accada, potrei essere uno di quelli che lo farà, ovvero uno show nel metaverso, che sembra una follia oggi ma se noi fossimo stati pronti nel momento del grande lockdown avremmo potuto fare delle cose pazzesche, cioè io da casa avrei fatto spettacoli di 30 minuti, non dico tutti i giorni quindi sarei veramente impiccato, però insomma ne avremmo fatte quindi sarebbe stato divertente chi da casa è un mondo a parte, quindi i ragazzi mi hanno mandato delle cose da dire perché io con tutta ignoranza, no, scusami, però io non ti ho mai detto magari parliamo di NFT, no, ma io nella mia mente, a tutti tu, no, io sapevo che era uscita la tua collezione, ma veramente, ma certo, guarda, questo mi onora davvero, non pensavo minimamente, ti giuro, ma io guardo tutto, io guardo tutto, seguo tutto, e poi prima, la questione, la cosa che ti dicevo all'inizio, cioè io devo parlare con te, devo sapere delle cose di te, è importante, per me, io sono fatto così, no, ma io sono uno che guarda tutto, 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 tutti i giorni, ascolta, esce un pezzo, può essere di chiunque, lo devo sentire, magari può tornarmi utile, magari un pensiero, non devi limitare, quindi quando i ragazzi mi hanno mandato questa roba io dicevo, io ragazzi non ce la farò mai imparare, a me solo il termine blockchain mi mette ai matti, e ho provato a parlare con un collega, gli ho detto, ma questa cosa degli NFT, lui, il? E io, perché il? Già il, l'articolo è sbagliato, il? E lui mi fa, no, il terfetti, il terfetti, quindi, allora mi hanno scritto, blockchain, vado, ti leggo i quattro punti, Ethereum, dove saranno venduti gli NFT, no? Ok, perfetto, poi mi scrivono, Drop è il lancio della collezione NFT, io non lo sapevo, no? E io, so cosa vuol dire Drop, ma non l'avevo collegato, a parte che c'è un modo di parlare, molto complicato, e perciò io sto dove devo stare, e dopo mi dicevano, la piattaforma dove ci sarà la community è Discord. Ok. Ok, quindi sono tre cose che io sto cercando di imparare, sono ragazzi giovanissimi, ma mi piaceva il progetto, perché tutti noi lo stiamo facendo, come dire, ragazzi sono proposti di farlo, no? E vediamo come va, cosa succede, perché no, perché non provare a vedere qualcosa che può tornare, e può essere carino, tipo voi siete qua oggi, io ho immaginato la stessa cosa, io sono sempre in tour, magari quelli che avranno l'NFT, capito, che saranno a teatro, con loro vengono dietro le quinte, ti saluti, è un modo, io faccio già comunque, perché c'è chi aspetta fuori, non è che scappo, e vado, andate via, schifosi, plebei normali, no, sei mugatto, oh mio Dio, dovrai uccidere il primo ministro della Malesia, sicuramente, quindi, però potrebbe essere un modo per avvicinare, soprattutto, magari, infatti è assurdo, cioè, quando tu me l'hai chiesto, io ero, ho detto, pensa già, nel sotto, già se ne parla, se ne parla, infatti i ragazzi mi spiegavano, non credere che li compreranno quelli che vengono a vederti a teatro, ma perché è un altro mondo ancora, è vero, è vero, e io ho detto, beh, voglio solo capire com'è, però è super, se metti, diciamo, appunto, le cosiddette utilità, no, dove io compro il tuo NFT e posso magari venire, magari farai un tour, magari uno spettacolo, una tappa, solo per quelli che hanno il tuo NFT, adesso, no, ma certo, oppure hanno l'accesso prioritario, tipo speedy boarding, se c'hai l'NFT, o altre cose, magari scrivi un libro e in anteprima loro c'è l'anno, no, certo, certo, no, ma era quello, e quindi quello secondo me è molto interessante, e figurati, noi, cioè, un altro termine, che si usa dalla collab, quando tu esci, perché non mi riconosce? Esatto, questa roba mi manda ai matti, dimmi, dimmi, la collab, praticamente, tu esci con la tua collezione NFT e una community come, vabbè, qua adesso siamo in pochi, ma siamo in 1200, che hanno un'altra collezione NFT, si fa una collaborazione, sarebbe collaborazione con la collab, la collaborazione, sì, perché, ho eliminato, e a quel punto questa è una nuova film, grande, dobbiamo, dobbiamo chiudere, io vado, Pintu, grazie, 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 grazie mille, grazie mille, mi piace molto, volevo dirti una cosa, quando no, tu mi hai scritto, mi piace molto come comunichi, la comunicazione è importante, bisogna, e la semplicità, e non farsi troppo, e più mentali, non credere, no, perché a volte senti delle robe, quando, guarda, mi è capitato, nello spettacolo facevo prima, parlavo di un sacco di cose, e avevo parlato con uno scienziato prima, che me le spiegava, e lui mi spiegava delle cose assurde, tipo lo spaghettification, che sarebbe se tu cadi in un buco nero, vieni risucchiato, la materia va da un lato e dall'altro, e si chiama spaghettification, perché diventi come uno spaghetto, no, me l'ha spiegato, e ho detto, questa roba è facilissima, solo perché lei è così intelligente, che me l'ha spiegato, cioè io da spaghetti, ogni volta che vedo gli spaghetti penso, sai, quando gli butti nella pasta, un buco nero, libero alla bolognese che intende, no, esatto, spiegare facilmente le cose, quando guardo i tuoi video, è figo, perché riusciamo a capire tutti, ti ringrazio tantissimo, anche io che sto in un altro pianeta, grazie, grazie, grazie,